Buongiorno buongiorno players A tempo di report al termine del main event dei due sono esattamente in otto i players passati al final day programmato per oggi alle ore 14 chip leader Ulanzmir con 3.095.000 chip il super che io ha registrato un totale di 96 entries tipo table dominato dall'aggressività di Francesco Bortolina che ha eliminato gran parte dei suoi avversari aggiudicandosi le loro taglie oltre ovviamente al primo premio seconda position per Giovanni Deriu a concludere il terzo posto troviamo Enrico Motto come vi dicevo oggi gli appuntamenti di giornata sono tre si inizia alle 14 con il final day del main event in concomitanza il 6 Max Championship e alle 18 ci salutiamo con il Goodbye Championship Genna a tutti i players ovviamente noi ci vediamo in diretta al TV Table da il main event